Buongiorno, sono Michelle Siglari dell'Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni. Oggi vi preparerò i biscotti morbidi all'arancia Belladonna di San Giuseppe. Gli ingredienti sono arance Belladonna di San Giuseppe, farina di tipo 00 del Molino Vizzari, burra ammorbidito, uova, zucchero, vanillina e lievito. Iniziamo a preparare l'impasto per 6 porzioni circa, usciranno 30 biscotti. Iniziamo dal ricavare il succo d'arancia con uno spremiagrumi. Dopodiché aggiungiamo la scorza d'arancia grattugiata e un pizzico di vanillina. E continuiamo a mescolare. Questo è come si presenterà l'impasto dopo due ore di riposo in un frigorifero. Adesso con l'aiuto di un po' di farina versiamo il nostro impasto sul pieno di lavoro e iniziamo a fare i biscotti. Con l'aiuto di un tarocco stacchiamo un po' di impasto e formiamo delle palline piccole che prima saranno passate nello zucchero semolato. E dopodiché nello zucchero a velo. Finita la preparazione dei biscotti all'arancia a Belladonna di San Giuseppe, col forno preriscaldato a 180 gradi li inforniamo per circa 10 minuti. I biscotti appena sfornati presenteranno delle crepe in superficie per via dello zucchero a velo. E adesso li serviamo, ottimi da gustare assieme ad un tè o anche per una colazione. Inoltre chi partecipare